La coreografa è Donna Manning. Sono 32 tempi su due muri. No tags and no restarts. Lo facciamo prima con i pasti e poi con il conteggio. 7 and 8 and tacco cambio, tacco cambio, tacco hook, tacco cambio, tacco cambio, tacco hook, tacco cambio, rock, step, lock, step, turn, turn, coaster, heel and touch and heel and step, step, out, out, in, in, step, step, out, out, in, cross, back, turn, cross, shuffle, shuffle. E adesso lo facciamo con il conteggio. 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 e adesso lo balliamo con la musica. Mi raccomando iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sul sito del Wild Angels. E adesso lo facciamo con il conteggio. E adesso lo facciamo con il Russians. Buona Clean어가! E adesso? E adesso? E adesso? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti